Per sentirmi meglio era importante perdere qualche chilo. Ho ritrovato la mia forma migliore, ma in modo equilibrato. È arrivato Chilocal Magra Metabolico, nuovo in bustine. Chilocal Magra Metabolico favorisce il metabolismo di carboidrati e lipidi e aiuta a mantenere sotto controllo i livelli di glicemia e colesterolo. La bilancia ora non è più un problema, vado fiera della mia silhouette. Chilocal è lo specialista del controllo del peso. L'originale compressa del dopopasto aiuta a restare in linea e a combattere i chili in eccesso. Ci tenevo ad essere di nuovo io. Per chi è nell'età del cambiamento c'è Chilocal Donna, più linea, meno vampate e irritabilità. Mentre per drenare i liquidi in eccesso e depurare l'organismo, Chilocal è anche drenante e depurante. Sul sito ho trovato tanti consigli e un sacco di amiche. Chilocal ringrazia le donne che animano la community. Scopri il tuo programma di snellimento gratuito su chilocalprogram.it Da Pool Pharma in farmacia.